ciao sono il dottor max in questo video ti spiego come si previene la malattia di huntington la malattia di huntington è una patologia genetica rara e progressiva che colpisce il sistema nervoso centrale è causata da una mutazione genetica nel gene htt e si trasmette in modo autosomico dominante il che significa che se un genitore alla malattia c'è una probabilità del 50 per il figlio erediti la mutazione poiché la malattia di huntington è una condizione genetica non può essere completamente prevenuta tuttavia ci sono alcune opzioni e misure che possono essere considerate test genetici preimpianto per le coppie ad alto rischio di trasmettere la malattia di huntington ai loro figli è possibile considerare la diagnosi genetica preimpianto pgd questa procedura di fecondazione in vitro permette di selezionare gli embrioni privi della mutazione genetica prima di essere impiantati nell'utero test genetici prenatali le coppie a rischio possono optare per il test genetico prenatali durante la gravidanza per determinare se il feto ha ereditato la mutazione genetica questo può aiutare a prendere decisioni informate sulla gravidanza con un selling genetico consultare un consulente genetico è importante per le persone con una storia familiare di malattia di huntington un consulente genetico può spiegare il rischio individuale e le opzioni disponibili per la gestione della malattia ricerca clinica partecipare a studi clinici e ricerche sulla malattia di huntington può contribuire allo sviluppo di trattamenti e terapie più efficaci per la malattia stile di vita sano mantenere uno stile di vita sano inclusa una dieta equilibrata e l'esercizio fisico regolare può essere utile per mantenere la salute generale e gestire meglio i sintomi quando si presentano supporto psicologico e terapia le persone a rischio di sviluppare la malattia di huntington o che l'hanno già sviluppata possono beneficiare del supporto psicologico e della terapia per affrontare il carico emotivo e psicologico associato alla malattia è importante sottolineare che la malattia di huntington è una condizione molto complessa e che al momento non esiste una cura definitiva tuttavia la ricerca continua a fare progressi nella comprensione della malattia e nello sviluppo di terapie potenziali consultare un medico o un consulente genetico per ulteriori informazioni e orientamenti specifici sulla prevenzione e sulla gestione della malattia di huntington in una situazione familiare a rischio grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video che puoi commentare raccontando le tue esperienze offrendo un servizio utile alla comunità buon proseguimento ci vediamo alla prossima domanda esaminata